Un incidente mortale nel mondo marittimo. Il sottomarino Titan è tragicamente imploso, con cinque vite perdute nell'incidente. Questo è il verdetto della Guardia Costiera statunitense, dopo il ritrovamento di detriti sul fondale oceanico, a breve distanza dal famoso relitto del Titanic. Oggi, dedicheremo un'analisi approfondita su cosa sia un'implosione dal punto di vista scientifico, esplorandolo attraverso esperimenti e innovative ricostruzioni 3D. Le riserve di ossigeno disponibili a bordo del sottomarino erano sufficienti per un periodo di 96 ore, ossia 4 giorni. Questo lasso di tempo, purtroppo, si è esaurito giovedì 22 giugno, intorno alle 13 ora italiana, rendendo inevitabile l'esito per i passeggeri. Nonostante questo, le ricerche sono continuate e la Guardia Costiera canadese ha riportato di aver individuato vari frammenti a circa 500 metri di distanza dal relitto del Titanic. Questi detriti, molto probabilmente, appartengono all'involucro esterno del sottomarino. La conferma, tuttavia, richiederà ancora del tempo. Questi frammenti sono stati scoperti da un ROV, un robot telecomandato utilizzato per esplorazioni subacquee, lanciato dalla nave Horizon Arctic. Ma come sono finiti sul fondo marino questi pezzi del sottomarino? La risposta più plausibile è che ci sia stata un'implosione. Spesso sentiamo parlare di esplosioni nei film d'azione, ma l'implosione è un fenomeno completamente diverso. Nell'esplosione, la materia si espande velocemente verso l'esterno, mentre in un'implosione, tutto collassa verso l'interno in un tempo molto breve, a causa di una differenza di pressione. Per comprendere meglio questo concetto, abbiamo condotto un piccolo esperimento. Prendiamo ad esempio una lattina vuota riempita con vapore acqueo, ottenuto semplicemente riscaldando dell'acqua con un bollitore. Se immergi la lattina contenente il vapore a circa 100 gradi in una bacinella di acqua fredda, quale sarà il risultato? La lattina si sarà completamente accartocciata, avrà letteralmente imploso. Nel caso del sottomarino, la differenza di pressione non è causata dalla condensazione di vapore acqueo, ma dall'enorme colonna d'acqua che esercita una pressione impressionante. Ogni 10 metri di profondità, la pressione aumenta di circa un'atmosfera. Il sottomarino ha perso contatto a circa 3500 metri di profondità, corrispondenti a 350 atmosfere di pressione. In poche parole, parlando con numeri alla mano il sottomarino si è ritrovato con una pressione sopra di esso di circa 2000 auto che esercitano la pressione. Quindi si parla di livelli di pressione assurdi. Purtroppo, la struttura e la forma del sottomarino non hanno potuto resistere a tale pressione, e il sottomarino è imploso, accartocciandosi su se stesso. Una conferma di questa teoria viene da un segnale rilevato dalla Guardia Costiera statunitense, che ha rilevato un rumore compatibile con quello di un'implosione. La storia ci insegna che l'oceano non perdona. Spesso pensiamo che l'esplorazione spaziale sia la più difficile, ma il mondo sottomarino presenta sfide uniche. Pressioni estreme, temperature basse, assenza totale di luce, corrosione e comunicazioni complesse basate esclusivamente su onde acustiche. Riflettendo su questa tragedia, ci rendiamo conto che è assurdo che un sottomarino, sulla cui sicurezza già c'erano dubbi dal 2018, sia andato negli abissi. Questa tragedia sembra essere il risultato della negligenza, e ancora una volta, ci sono delle vite umane che ne hanno pagato il prezzo. Tra i cinque nomi dei passeggeri morti nel sommergibile Taitan, c'è il primo nome, confermato dai parenti, quello del miliardario britannico di 58 anni Hamish Harding, a capo della Action Aviation, società legata all'aviazione con sede negli Emirati Arabi. Lo stesso Harding, appassionato di spazio e avventure, era stato tra i primi a scendere nel punto più profondo della Fossa delle Marianne, il Challenger Deep, nell'Oceano Pacifico, e prima del disastro, aveva condiviso sui social qualche post sulla sua ultima avventura. Con lui anche Paul Henry Nargiolet, 76 anni, forse uno tra i maggiori esperti al mondo di Titanic. Ex membro della Marina Francese per 25 anni, Nargiolet era colui che guidò il Nautilus, il piccolo sottomarino che nel 1987, dopo le prime scoperte, confermò la presenza della nave e permise, dopo 34 diverse immersioni, di recuperare più di 1800 oggetti del Titanic. L'altro passeggero era il CEO della Ocean Gate Expedition, l'ingegnere aerospaziale Stockton Rush. Dal 2010, l'inizio del suo sogno, lui che voleva andare nello spazio ma non poteva per problemi alla vista, virò su altro e aprì le porte del turismo di profondità, per permettere a persone facoltose di essere uno tra i pochi, a vedere con i tuoi occhi il Titanic, scrive il sito della BBC. Le altre vittime sono l'uomo d'affari pakistano Shazada Dawood, uno tra i manager più ricchi del paese, insieme al figlio Suleman, 19 anni. Dawood era un amministratore del Setia Institute, un'organizzazione di ricerca in California, ed era anche vicepresidente della Dawood Hercules Corporation, parte del Dawood Group, un conglomerato di varie aziende di proprietà della famiglia. Iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi contenuti. Vi ringraziamo per averci seguito fino a questo punto. Ci rendiamo conto che è una storia con degli aspetti tragici, ma il nostro obiettivo è fare chiarezza su cosa è successo davvero. A presto!